... ... ... ... esatto, intanto Leal qui serve di nuovo il nastro, lo smorza poi la palla per Ishikawa che trova le mani del muro e trova anche il punto del 5-6 Milano torna a contatto ancora Riklitski questa volta più morbido servizio in qualche modo Pesaresi lo tiene poi Ishikawa sulla finta di Matteo Piano arriva facile facile sul pallone lo schiaccia per terra, 14-13 difficilmente si poteva pensare a un risultato positivo per Milano, quindi meglio che stia, fare un esatto come in questo caso, di farla in intra-rotazione, quindi la palla va verso posto 1, qui intanto Ishikawa si riscatta così, gran ricezione poi cercato da Dandello, va a chiudere il punto con un mani fuori 4-6, Milano due punti da recuperare ma adesso il giapponese va a servire lui con questo fondamentale può fare male e arriva infatti Leis, aveva appena finito di dirlo e poi si è anche caricato Ishikawa prova a trascinare la squadra verso il pari una bomba di Leis a servizio contenuta molto bene da Pesaresi, poi la pipe chiamata da Dandello, risponde Ishikawa, punto Milano e sto notando che anche i giocatori di distanza tra le due squadre Pesaresi riceve il servizio forte di Guantorina poi Urnauti in qualche modo deve attaccare Balaso, buona posizione, buona difesa poi Leal che deve attaccare da fermo tocco del muro, Mare in qualche modo Dandello col bagger a cercare Ishikawa contro il muro a 2, trova però il mani out Yuki Ishikawa 19-20 va a servire con Urnaut, molto forte riceve Balaso fuori dal campo De Cecco arriva col bagger la palla va nel campo di Milano e allora il punto di Yuki Ishikawa qui chiedono chiedono una palla trattenuta non mi è sembrato ma nel caso il replay no, i giocatori di Ciclittano adesso Kamil Ryklitsky prova lui palla che sfiora solo il nastro difesa da Urnaut poi Ishikawa chiude il punto Milano ha una nuovissima occasione per bellissimo servizio si lancia la palla un metro dentro al campo la gira bravo, bravo, bravo infatti un altro gran servizio poi Milano in qualche modo riesce a chiudere il punto con il muro che rischiava di essere in campo della Lube poi è finito fuori di poco e allora Civitanova ancora Riklitsky al servizio un altro grande servizio questo è un altro dei giocatori che hanno questi servizi potenti e qui però dall'altra parte se c'è la potenza del servizio c'è la morbidezza la tecnica di un giocatore tiene Urnaut al servizio la riceve Leal non benissimo però Dececo a cercare Riklitsky dalla seconda pesare in qualche modo la tiene poi il bugger di piano per Ishikawa che va forte Yuki Ishikawa 5-4 molto forte ma lo riceve bene Juan Torena poi Dececo a cercare ancora Riklitsky questa volta però c'è il muro la premieta di Ishikawa piano ferma Riklitsky 6-4 Milano ottimo muro chiuso parte Ishikawa lo riceve Leal poi Dececo a cercare Guantorena Murato Balaso la tiene viva Dececo con il pugno poi la palla rimane in campo Balaso in tuffo Dececo di nuovo a cercare Guantorena adesso non benissimo l'attacco della Lube allora cerca una rigiocata Milano vediamo come la chiude con Ishikawa muro fuori Yuki Ishikawa adesso sta prendendo per mano la squadra il giapponese 8-5 bravo Yuki che solito pure spingerà di più qui lo riceve comunque Balaso poi Dececo a cercare Leal coperto da Daldello deve alzare Mara per Ishikawa contro il muro va a trovare le mani della Lube mani out punto Milano 13-16 bravo Yuki Ishikawa colpire la palla qui intanto riceve Mara molto bene poi Ishikawa che va col pallonetto non ci arriva questa volta Reikleski 14-18 Ishikawa adesso sta da solo provando a prendere per mano Milano il pallonetto Ishikawa Mara Berlandi Simon ricevuto bene da Pesaresi poi arriva Ishikawa per la pipe trova il campo punto Milano 18-20 sempre questo set con le sue battute ancora qui molto incisivo poi arriva Ishikawa per la pipe Balaso non può fare altro che sedersi per terra quando arriva Yuki con questa pipe bravo Daldello pipe spostata dietro il Dona 1 21-23 Anzani al servizio lo riceve Urnaut Daldello a cercare Cosa Merrick fermato Cosa Merrick ma nuova occasione per Milano con Urnaut Muro a 2 fermato ancora nuova occasione per Milano ancora Urnaut questa volta il Muro a 3 la tiene ancora giocabile Milano poi Urnaut fermato ancora ancora buona la palla Ishikawa Ishikawa Yuki Ishikawa 2 pari vediamo se il flop di Anzani è efficace anche come quello di Milano grande difesa di Anzani poi Simon manda la palla di là dall'altra parte però c'è Ishikawa che chiude una parallela con con una facilità incredibile un no look veramente da cineteca per i suoi esatto Daldello adesso va a cercare Ishikawa con la pipe che colpisce praticamente Marchisio che stava sostituendo Balasso sul 10-14 secondo servizio di Riklitsky tagliato ma ci arriva Pesaresi in tuffo poi ha cercato Ishikawa e la palla rimane lì quanto Rena aveva coperto ancora un altro servizio Nastro la riceve Leal poi De Cecco su Simon la difende però Milano Daldello a cercare dall'altra parte Ishikawa money out di Yuki Ishikawa Milano si riporta a contatto 13-14 veramente time out di Giorgi time out di Giorgi perché sai vai on di Leal un missile in qualche modo contenuto da Urnaut poi la palla è per Mar che gioca sul muro per rigiocarla eccola qui l'altra palla questa volta l'attacca Ishikawa non tocca il muro anzi si e quindi punto Milano Yuki Ishikawa 14-15 ancora a contatto le due squadre bravo questo vuole chiudere questo set Pesaresi in qualche modo contiene poi Daldello a cercare Ishikawa che arriva money out Ishikawa Milano non molla 21-23 bravo Yuki ad attaccare diciamo sul muro più debole grazie a tutti grazie a tutti